Ciao! Oggi iniziamo ad usare Arduino. Vediamo meglio cos'è e prepariamo il nostro computer per caricare i nostri programmi in Arduino. Nel video precedente, quando ho mostrato il contenuto del Basic Starter Kit di Elego, ho raccontato una breve storia. Vediamo adesso un po' meglio questa scheda. Il cuore di tutto è il microprocessore Atmega 328, che viene costruito sia in forma DIP a 28 piedini, sia in forma TFQP a 32 piedini. Nel formato DIP, il microprocessore si può spostare facilmente dal circuito di programmazione ad un circuito dedicato a svolgere il suo lavoro, mentre nel formato TFQP permette di costruire schede elettroniche di dimensione più piccola. Il microprocessore Atmega 328 è una CPU 8-bit, lavora con un clock massimo di 20 MHz, ha 32 KB di memoria flash e 2 KB di memoria RAM. Sono state costruite varie schede con entrambi i modelli di questa CPU, e queste schede sono chiamate Arduino Uno. Nel video precedente ho detto che è come un computer, ma più piccolo. Un comune PC, che si può acquistare oggi, ha una CPU a 64-bit. Lavora con un clock intorno ai 2-3 GHz, ha spesso 1 TB di disco fisso e come minimo 4 GB di RAM. Quindi la potenza di calcolo è ovviamente enormemente maggiore in un computer normale rispetto ad Arduino, ma il principio di funzionamento delle CPU di questi apparecchi è molto simile. Facendo lavorare insieme un computer ad un Arduino, si può sfruttare la versatilità di Arduino per controllare apparecchi autocostruiti e tramite il computer creare un'interfaccia graziosa e potente per governare tutto il sistema. Prendiamo il nostro Arduino dalla scatola di Elego. La CPU è in formato DIP. Nella scheda è presente un adattatore USB per far comunicare la CPU col computer, sia per programmarla ma anche per inviare e ricevere dati durante il suo normale funzionamento. La scheda può essere alimentata anche da un carica batteria USB o da un normale alimentatore in corrente continua tra i 7 e i 12 volt. L'Arduino dispone di 20 connessioni elettriche a disposizione per le nostre necessità. Nei prossimi video vedremo anche che caratteristiche hanno. Grazie a questa connessione la CPU può servare e ricevere informazioni da sensori o altri apparecchi, ma può anche inviare comandi a servomeccanismi o informare gli utilizzatori di cosa sta succedendo. Ci sono schede Arduino anche con la CPU in formato TFQP e con qualche altra differenza nella parte di alimentazione o comunicazione USB, ma quasi sempre si possono intercambiare tra di loro senza problemi. La stessa CPU in formato TFQP si trova anche in Arduino Pro Mini, capace di fare lo stesso lavoro di Arduino Uno, ma a cui manca l'adattatore USB per collegarlo al computer. L'Arduino Pro Mini è leggermente più grande della CPU. Nella cartella datasheet del piccolo CD-ROM c'è anche la scheda tecnica di questo Arduino. Il file si chiama elego1.l3.board.pdf. In questa scheda ci sono parecchi dettagli, ma li vedremo meglio nei prossimi video. Passiamo all'esperimento di oggi. Le schede Arduino possono anche avere varie luci LED di controllo. C'è sempre un LED che indica l'Arduino acceso. Nelle schede di dimensione normale c'è un altro paio di LED che indicano la trasmissione e ricezione dei dati della seriale RS232. E in tutte le schede c'è sempre un LED collegato ad una delle connessioni programmabili. In pratica, senza dover costruire un circuito esterno, c'è un LED a disposizione per verificare se Arduino funziona bene ed esercitarsi col primo programma. Lo vedremo tra poco. Adesso installiamo il software per programmare l'Arduino. È disponibile per Windows, Linux e Mac OS. Per installare il programma su Windows si deve fare una procedura simile a qualsiasi altro programma. Si va sul sito web, si scarica il programma di installazione, si avvia, si fanno tutti i passaggi, esattamente come descritto in moltissimi manuali. Vediamo però come si fa con l'Ubuntu 20.4. Esiste un pacchetto installabile con One, che abbiamo già visto nei video precedenti. Purtroppo si tratta di una versione parecchio vecchia, che è iniziata a dare problemi con le ultime librerie per programmare l'Arduino, quindi la evitiamo. Si può però sfruttare un meccanismo diverso, introdotto da qualche anno in Ubuntu, ovvero i pacchetti Snap. I pacchetti Snap sono meno integrati nel sistema rispetto a quelli installabili common, ma grazie a Snap è più facile aggiungere software nel sistema senza creare conflitti con altri software già presenti. Non ho ancora trovato un sistema per installare i pacchetti Snap cliccando col mouse, quindi vi mostrerò come si fa dalla riga di comando. È molto più facile rispetto a nommare il pacchetto di Windows. Apriamo il terminale di Ubuntu. Scriviamo sudo snap installarduino e premiamo invio. Digitiamo la password e aspettiamo qualche minuto. Abbiamo già fatto metà del lavoro. Troviamo già l'applicazione per programmare l'Arduino nel menu di sistema. Ma manca un passaggio. Infatti compare una videata che ci dice di eseguire un altro comando. Questo è necessario per poter usare, come utenti di sistema, la porta seriale per la programmazione. Infatti queste periferiche di solito sono usate dal sistema e non sono normalmente accessibili direttamente dagli utenti. Basta quindi copiare il comando suggerito e incollarlo nel terminale. La modifica però ha effetto solo all'apertura della sessione di lavoro, quindi viene suggerito un riavvio del computer. Ma basta anche solo chiudere e riaprire la sessione di lavoro. Chiudiamo ovviamente Arduino e terminale. Adesso ci ricolleghiamo. Apriamo l'applicazione per programmare l'Arduino. È già pronto uno scherzo di programma in cui inserire i comandi che dovrà eseguire l'Arduino. Ma si possono caricare velocemente dei programmi di esempio già pronti. I programmi di Arduino vengono spesso chiamati Sketch. Quello più facile si chiama Blink. Lo si trova nel menu File, Esempi, Basic, Blink. Questo programma si limita semplicemente a far lampeggiare il LED presente in tutti gli Arduino. Vedremo meglio questo programma tra poco. Dobbiamo fare prima un'altra cosa. Proviamo a collegare il nostro nuovo Arduino al PC. Basta collegare il cavetto USB al PC e ad Arduino e vedremo un LED che lampeggia. Questo perché quando le schede Arduino vengono costruite in fabbrica, viene già inserito il programma che fa lampeggiare questo LED. Se avessimo un computer con l'Ubuntu o avessimo installato l'applicazione su Windows, saremmo pronti a caricare il nuovo programma su Arduino. Invece oggi sto usando un computer virtuale l'Ubuntu in un PC con Windows. In questo caso occorre fare in modo che l'Ubuntu sia connesso al computer virtuale e quindi dobbiamo andare nelle connessioni del computer virtuale e prolungare l'Ubuntu fino alla macchina virtuale. Adesso dal menu Strumenti Porta possiamo vedere se è stata trovata la seriale di Arduino. Nel nostro caso si chiama DevTTYACM0. Sempre da Strumenti Schede assicuriamoci che sia selezionata Arduino Uno. Clicchiamo sull'icona del caricamento del programma, che è la seconda in alto a partire da sinistra. Ci vogliono alcuni secondi per compilare e inviare il programma alla scheda. Non sembra essere cambiato di molto. Probabilmente il programma caricato in fabbrica è identico a quello che abbiamo appena caricato noi. Spiegherò meglio questo programma nel prossimo video, ma potete già intuire che il funzionamento è fare in continuazione questi quattro comandi accendi, aspetta, spegni, aspetta. Il comando Aspetti in inglese si chiama Delay e il numero sono i millesimi di secondi in cui il programma deve stare fermo. Possiamo cambiare questi numeri al piacere e vedere il led lampeggiare in modo diverso. Con il programma appena caricato, il led rimane acceso un secondo e rimane spento un secondo. Se cambiamo 1000 con 500 in entrambi i delay e carichiamo il nuovo programma, il led torna a lampeggiare più veloce, ovvero acceso mezzo secondo e spento mezzo secondo. Se nel secondo delay mettiamo 1500 e carichiamo il programma, il nostro Arduino accende il led per mezzo secondo e lo tiene spento per un secondo e mezzo. Potremo staccare Arduino dal nostro computer e collegarlo anche ad un caricabatteria USB per telefoni e Arduino continuerà ad eseguire il programma che gli è stato caricato. Oppure si può collegare una pila da 9 volt o un altro alimentatore in corrente continua. Nel prossimo video vedremo meglio come si programma Arduino e comincieremo ad aggiungere qualche altro componente elettronico. A presto, ciao a tutti! Ciao a tutti!